La Questura di Ragusa ha avviato in questione il cosiddetto modello Trinacre, implementando i servizi di prevenzione e controllo nei territori di Ragusa, Comiso e Vittoria. Al fine di rendere infatti più incisiva l'attività della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno ha disposto l'invio di numerosi equipaggi del reparto Prevenzione e Crimine di Catania a supporto dell'attività nel territorio provinciale. Nell'ambito di un articolato piano di controlli straordinari, sono stati impiegati 25 equipaggi, con 65 operatori, sempre diretti e coordinati dalla Questura di Ragusa e dai dirigenti ai commissariati di Vittoria e Comiso. Durante questi servizi, il bilancio è di 150 veicoli controllati, 255 persone controllate, 30 sanzioni per infrazione stradali e 5 fermi amministrativi di veicoli. Inoltre, controllati anche diversi esercizi commerciali per verificare il rispetto delle norme vigenti. L'attività prosegue su tutto il territorio provinciale per garantire ovviamente la sicurezza dei cittadini.